Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio Consul Brokers SPA, Piazza della Repubblica 14-A, Campo Basso, broker di assicurazione Molise a calci Buonasera, ben ritrovati, puntata numero 266 di Molise a calci Bene, è stata una giornata, la quarta di ritorno molto positiva per le molisane di quarta serie il Campo Basso è andato a sbancare con il quinto gol stagionale di Bontà lo stadio Aragona di Vasto e ha spodestato dal podio della classifica la Re Canatese ed è terzo in classifica, c'è tanto entusiasmo in città, tant'è che la squadra è stata accolta con entusiasmo a ritorno dalla vicina trasferta di Vasto, con fumogeni è intervenuto anche il capitano Musetti è intervenuto Musetti, giocatore fra i più rappresentativi, a dialogare con i tifosi che erano ad aspettare con entusiasmo la squadra di ritorno da Vasto parleremo di questo, della vittoria 5 a 0 dell'Agnone sul Chieti, del pareggio prezioso del Vasto Girardi sul campo del Pineto che domenica sarà a Selvapiana questo ed altro, prepareremo come dire una sorta di discorso anche sulla commenteremo la finale di Coppa Italia di eccellenza che si giocherà da qui a sette giorni al campo di Sernia, l'ancellotta fra Treppini e Acli, campo di Pietra davvero una puntata ricchissima, tra poco presenteremo gli ospiti ma prima, buonasera e ben ritrovata, Erika Rico Buonasera Gianni, buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti all'ultima puntata di gennaio di Molise a Calci prima di iniziare vi ricordo subito quali sono i nostri canali di riferimento che sono il canale 11 qui in Molise, 880 in Lazio e 96 in Abruzzo ma siamo disponibili anche in diretta streaming sul sito www.telemolise.com Anche oggi indosso uno splendido abito che mi è stato gentilmente offerto dalla boutique Smeralda Moda situata qui in Piazza Pepe a Campobasso quindi saluto e ringrazio Pinella Graziano Beh, hai fatto bene a fare questo riferimento temporale dell'ultima domenica di gennaio mi verrebbe quasi da dire come passa il tempo, sembrava ieri che... È vero, tra esattamente quattro puntate festeggeremo la 270esima puntata di Molise a Calci Che cosa faremo? Stapperemo uno spumante? Non lo so, vedremo, abbiamo quattro puntate per pensarci Vediamo chi è venuto a trovarci questa sera Sì, presento subito gli ospiti, è venuto qui a trovarci oggi Antonello Pascale giocatore dello Sporting Campo Basso una squadra di calcio a 5 che milita nel campionato di Serie C ma anche proprietario dell'agenzia di animazione Magica Pula Buonasera Antonello Buonasera a voi, grazie dell'invito ragazzi È qui con noi anche Nicolo D'Amico giovane studente di giurisprudenza e anche giocatore della squadra di Oratino Buonasera Bruno, buonasera Erika Buonasera ad entrambi i nostri ospiti Antonello, amico di vecchia data, tifoso rosso-blu, giusto Antonello? Sì, certo, naturalmente qualcuno potrebbe dire un po' occasionale soprattutto allo stadio, però seguo sempre il Campo Basso e apprezzo naturalmente e noto con piacere che sta risalendo in classifica come merita credo la società ma soprattutto la città di Campo Basso Ecco, allora, no, non ho detto che sia occasionale No, 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 lo so Però voglio dire che ieri ho notato una cosa di ritorno della squadra, con il pullman della squadra da Basso c'era uno striscione, crediamo, C con questa C grossa tu ci credi, detto con questa C la Lega Pro ovviamente non è indicata più con le lettere ma si chiama Lega Pro a questo punto ci si può credere, possiamo vedere la classifica a meno nove dalla prima perché credo che in queste ore che ci hanno separato dalla fine della partita dell'Aragona non si stia parlando d'altro nel tifo cioè questa scalata alla vetta della classifica del Campo Basso Che cosa pensi, Antonello? Ma guardando la classifica io penso sempre che si gioca per vincere ci si pone sempre degli obiettivi L'errore più grande che potrebbe fare adesso il Campo Basso la città è mettere nel mirino semplicemente il notaresco e giocare per questo io penso che ogni partita adesso sia a sé la mentalità giusta che adesso il Campo Basso da 15-20 partite ha e pensare una domenica per volta poi purtroppo non dipende da te nove punti sono tanti però sono stati recuperati cinque in due settimane quindi nulla è precluso deve semplicemente continuare come sta facendo a giocare poi chi lo sa Nicolò D'Amico sullo stesso argomento? Beh io penso che attualmente sia una buona opportunità da cavalcare da parte del Campo Basso perché appunto credo sia uno dei migliori momenti di forma della città e della squadra stessa e quindi perché no non crederci fino all'ultima giornata nonostante il meno nove ecco perché ripeto ha destato un grandissimo entusiasmo questa vittoria di Basso ci sono stati dei momenti di commozione anche fra la dirigenza che era presente lì l'amministratore delegato Mario Gesuè lo stesso Luigi Mandragora e il direttore sportivo De Angelis allora andiamo a sentire subito i pareri dall'Aragona di Basso raccolti dalla nostra truppa Erika Sì in questo caso Pino Somma ha intervistato per noi l'allenatore del Campo Basso Mirko Cudini e Marco Amelia l'allenatore della Vastese Mister Cudini è un risultato di prestigio questo sul campo della Vastese soprattutto perché fa proseguire la serie positiva del Campo Basso Di prestigio sofferto e credo alla lunga anche meritato tranne i primi 15 minuti forse dove abbiamo sofferto un po' l'aggressività della Vastese nonostante fossimo rimasti in dieci per non dico un'espulsione eccessiva ma per due falli però vuol dire ci può stare nel calcio quindi però devo dire devo fare i complimenti ai ragazzi perché in dieci hanno fatto una partita di nella fase di non possesso credo perfetta abbiamo ribattuto colpo su colpo abbiamo concesso il minimo che potevamo concedere a una squadra che nel reparto offensivo ha una grossa qualità quindi abbiamo avuto la palle alcune palle per poterla chiudere nel secondo tempo però devo dire che alla fine il risultato ci premia e ci portiamo a casa questa striscia in questo momento di risultati che ci fa sperare per il futuro sì sì la sconfitta non ci voleva poi per come si era messa per la superità numerica però poi quando succede così è difficile pure trovare spazi perché il capo basso si è messo in dieci praticamente nell'orolo tre quarti neanche non lo metà campo a volte c'è anche il rischio di prendere contropiedi però abbiamo provato muovendo palla per cercare di aprirli di creare buchi nel primo tempo potevamo pareggiare con la palla su Bardini che è stata l'impallata ci abbiamo provato i ragazzi hanno fatto hanno fatto il massimo si poteva far meglio sicuramente perché quando c'è la sconfitta è sempre così ma la sconfitta è stata contro il campo basso che non è l'ultima della classe anzi è una delle migliori però nella gestione di alcune situazioni dovevamo far meglio ci siamo fatti prendere un pochino dalla fretta e non va bene perché vanno esaltate le qualità dei giocatori in maniera in maniera diversa ciò non non vuol dire che i ragazzi hanno dato hanno dato il massimo quindi sono non posso non posso dirgli nulla se non se non dirgli di di continuare a lavorare perché la delusione c'è noi siamo i primi a essere delusi però qui c'è da da continuare a lavorare andare avanti e mettere mettere seguire la linea di guida che è stata che è stata ben ben delineata da parte di tutti e girare pagina e pensare comprensibile la delusione di tutti ma noi siamo i primi a essere delusi allora aggiorniamo un po' di statistiche Bontà ha segnato il suo quinto gol stagionale nelle 13 partite utili che hanno portato 33 punti su 39 il Campobasso non è mai passato in svantaggio l'Agnone ha vinto 5 a 0 il Vasto Girardi 1 a 1 a Pineto stanno facendo un ottimo campionato Antonello beh oltre le aspettative perché naturalmente rispetto al Campobasso l'aspettativa penso sia per Agnone che per il Vasto Girardi fosse semplicemente fare un campionato tranquilli senza patemi e lo stanno facendo molto molto bene l'Agnone è salita 33 punti il Vasto Girardi a 29 io vorrevo chiedere anche a Erika sul Campobasso che sta davvero in un grandissimo momento di forma è una squadra che si diverte corre praticamente il tifo è diventato quasi tutt'uno con la squadra ci aspettiamo davvero un gran pubblico domenica superiore alle ultime giornate in Campobasso Pineto ce lo aspettiamo davvero lo diciamo con grande con grande affetto perché insomma credo che questi ragazzi meritino il calore di un pubblico anche superiore in casa secondo te Erika? Sì anch'io vorrei invitare tutti i Campobassani e non tutti i tifosi del Rosso Blu a intervenire nel campo perché è importante un supporto anche da parte dei cittadini per una squadra che in realtà stupisce e sta vincendo quindi non dico di ambire al primo posto perché comunque il notaresco da parte sua ha un curriculum di tutto rispetto però quanto meno assicurarsi un posto per i playoff credo sia molto importante e con il supporto del pubblico sia ancora più bello quindi tu diciamo cerchi di fare da pompiere in che senso di frenare un po' gli entusiasmi perché questo meno nove è ancora una margine da colmare io dico soltanto questo e poi chiaramente passiamo alle altre molisane di quarta serie che in questo momento il campo basso non può mai sbagliare se analizziamo il momento storico significa fine gennaio tra le prime tre cioè notaresco matelica e campo basso il campo basso è quella che sta meglio probabilmente anche con la testa ma non possiamo considerare le fette di campionato ci sono questo meno nove dal notaresco meno uno dal matelica e ci sono altre 13 giornate e 39 punti da giocare quasi come se da febbraio in maniera surreale da febbraio fino al 3 maggio iniziasse un nuovo campionato per il campo basso per il notaresco e per il matelica vedremo come andrà a finire andiamo allo stadio di Agnone Erika non ci sono le espulsioni prego ah sì giustamente Erika ha fatto bene a rettificare perché non le abbiamo viste dal servizio filmato di Pino Somma ma le vediamo adesso le espulsioni di Bastese Campobasso e chiederemo ai nostri ospiti un parere possiamo andare qui il Campobasso ha giocato con un uomo in meno per gran parte della partita qui c'è un fallo di Martino su Esposito Antonello giallo secondo te Martino terzino destro del Campobasso non ci può stare l'entrata è un po' pericolosa poi naturalmente lui voleva prendere sicuramente la palla non entrare a far male ad Esposito però potrebbe starci come come munizione secondo te Nicolo secondo me il giallo è più che legittimo perché comunque l'intervento è stato piuttosto pericoloso sicuramente non è prevista l'intenzionalità comunque anche se in effetti l'intervento avrebbe potuto poi creare danni ad Esposito quindi il giallo c'è secondo me sì quindi questa è l'espulsione di Martino che salterà Campobasso Pineto per la cronaca per la cronaca vediamo anche quella della Vastese Maia Bianca i ragazzi di Amelia possiamo andare avanti con le immagini perché c'è stata un'espulsione vedete anche ecco qui c'è poco da dire Antonello perché qui decide proprio di palleggiare tipo pallavolo il gioco a Lonzi della Vastese è stato bravo perché l'ha messa proprio bene con la mano però peccato che è un arto che non si possa usare c'è solo un piccolo particolare un bell'assist sì ha deciso di fare un assist con il braccio anche qui a Lonzi della Vastese era ammonito ed è stato espulso quindi secondo i nostri ospiti credo che sei beh non ha fatto una piega neanche lui già abbassa la testa quando fischia quindi forse un accenno di protesta c'è stato io vedo che si mette le mani nei capelli però poi subito capisci ci sta il far finta di nulla però ecco è capitato a te giocando a calcio a 5 di far finta di nulla però eri consapevole di aver fatto un'irregolarità clamorosa cioè nei primi attimi come no però ti rendi conto subito quando magari fai un fallo o ti fischiano qualcosa contro che è giusto così quindi entrambe le espulsioni all'Aragona c'erano quella di Martino del Campobasso almeno il secondo giallo quello abbiamo visto è quella di Alonzi della Vastese Martino abbiamo detto che salterà Campobasso Pineto vedremo chi lo rimpiazzerà Erika sì allora a questo punto guardiamo i nostri contributi riguardo la partita dell'Agnonese contro il Chieti il Chieti si è chiuso in silenzio stampa quindi ai nostri microfoni soltanto Erminio Rullo Erminio Rullo dell'Olimpia agnonese innanzitutto partiamo da sette giorni fa forse non fa piacere perché era arrivato a quel pareggio questa vittoria sicuro è stata costruita nel corso di questa settimana cosa vi siete detti? ma ci siamo compattati un attimo perché venivamo da due vittorie la tensione era un po' calata la concentrazione affrontare una squadra magari penultima in classifica nell'inconscio può portare a qualche giocatore un calo di tensione e l'abbiamo pagata domenica anche se magari potremmo anche vincerla però ripeto non è quella l'agnone che abbiamo noi che prepariamo le settimane quindi abbiamo fatto una settimana importante e in campo si è vista a prescindere dal risultato si è vista una squadra cattiva aggressiva sempre sul pezzo che ha provato a giocare a mettere in pratica quello che proviamo ecco questo è il terzo successo in quattro partite nel girono di ritorno un andamento quasi da vertice sì diciamo che siamo partiti bene ma io penso che tolte le prime quattro partite dell'andata dove la squadra era nuova abbiamo avuto anche difficoltà di risultati e poi la squadra ha sempre avuto un andamento positivo ci è mancata un po' di continuità però la squadra sta bene fisicamente in saluto in fiducia sono arrivati i giocatori importanti a dicembre quindi abbiamo qualche cambio in più per far riposare qualcuno nel secondo tempo avete dato spazio a più di qualcuno sì dipendo c'era gente che non giocava da un po' che rientrava da infortuni quindi abbiamo dato spazio a chi aveva bisogno di fare minutaggio allora io chiedo alla nostra regia e ringrazio Angelo Pompei e Daniele Ricciuto di mostrare nuovamente la classifica perché noi ci progettiamo con la testa già al prossimo turno la quinta di ritorno e chiediamo ai nostri ospiti ecco grazie mille per la schermata ci sarà San Nicolò Notaresco primo contro Re Canatese quarta Campobasso Pineto quindi l'incrocio è terza quinta prima quarta il Matelica va a Chieti contro una squadra in grandissima difficoltà secondo te è una giornata importante Nicolò date queste premesse Nicolò D'Amico beh sicuramente è una giornata importante il Matelica avrà uno scontro che probabilmente gli riuscirà a dare i tre punti che meriterebbe sostanzialmente anche perché comunque anche il Matelica sta facendo un buon campionato allo stesso tempo il Campobasso che secondo me è la squadra più in forma del girone può sicuramente portare a casa i tre punti quindi diciamo che in un'ottica di passaggio al secondo posto per la prossima giornata può essere ancora difficile vediamo insomma anche il notaresco come si comporterà e per poi magari avvicinarci più al primo posto senz'altro allora Lagnone giocherà a Giulianova il vasto Girardi in casa con il Tolentino secondo Antonello il prossimo turno interlocutorio o nasconde qualche insidia per il Campobasso può riservare qualche cambiamento di classifica oddio gioca comunque col Pineto che è in lotta lì per i playoff però come ho detto prima fare dei calcoli il notaresco a giocare lì magari il Matelica non serve a molto penso che il Campobasso abbia fatto bene finora nelle ultime 13 partite proprio perché non ha visto la classifica ha pensato solamente a giocare sabato per sabato domenica per domenica penso di fare così semplicemente perché Campobasso io sono milanista quindi Amelia lo conosci bene Amelia De La Vastese è certo l'ultimo scudetto c'era anche lui nella rosa però dicevo Campobasso è una piazza importante rapportata con Milan non è facile giocare a Campobasso perché è una piazza che merita e vorrebbe qualcosa di più quindi magari fare dei calcoli e rischiare di inciampare poi potrebbe avere un rischio maggiore di quello che magari sta facendo adesso cioè nel senso adesso c'è molto entusiasmo ed è bellissimo come le immagini di ieri di quando la squadra è tornata però io dico manteniamo i piedi per terra domenica per domenica vediamo secondo te c'è un margine di errore se si vuole puntare al primo posto pochissimo secondo me magari 13 giornate alla fine sì io penso che minimo se non 33 come ha fatto le ultime 13 ma 30 ce ne vogliano quindi il margine di errore per te è di una partita perfetto un paio sì cioè nel senso su 39 io penso che un po' più di 30 dei punti li debba fare il Campobasso perfetto perché poi alla fine noi parliamo diciamo argomentiamo però alla fine diventa con il passare dei mesi anche un fatto aritmetico anzi soprattutto un fatto aritmetico Erika sì guardiamo ora tutti i momenti salienti del campionato di Serie D attraverso la moviola del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripalimosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce e il brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità con le immagini siamo all'Aragona di Vasto esattamente diciassettesimo del primo tempo grande incursione di Van Zand sulla sinistra torniamo un attimo dietro insieme al nostro regista Donato Mignogna vedete il numero 3 del Campobasso mette questo pallone bellissimo al centro Bontà arriva di testa e purtroppo spedisce alto sulla traversa grande occasione per il Campobasso già in apertura Bontà però si rifarà più tardi con il gol partita trentatresimo del secondo tempo da Alessandro per Van Zand che entra in area poi vede dietro di lui Musetti che arriva a spron battuto torniamo anche qui un attimo dietro perché vedete la bella incursione di Van Zand palla a Musetti che spara con tutta la forza che ha in corpo ma colpisce purtroppo solo la traversa della porta della Vastese quarantesimo del secondo tempo proteste della Vastese per questo intervento al limite dell'area sul quale l'arbitro non è proprio intervenuto arbitro signor Gandolfo di Bra se andiamo un attimo piano praticamente perché l'azione è molto veloce però vedete questo è il momento questo sarebbe il momento del presunto fallo perché a noi sembra che colpisca il pallone il giocatore con il calzettone bianco quindi si tratta di Alonzi della Vastese vedete però comunque siamo fuori area quindi qui l'arbitro eventualmente per questo intervento di Alessandro su Alonzi avrebbe dovuto concedere un calcio di punizione dal limite che invece ha ritenuto di non concedere forse perché ha ritenuto che Alonzi attaccante in maglia bianca si fosse lanciato vedete per centrare per colpire il pallone quindi fosse franato lui addosso al giocatore del campo basso tredicesimo del primo tempo ad Agnone c'è questo cross di Diachite andiamo a controllare a centro area perché c'è netto il fallo di Ricci su Diarrà vedete il giocatore in maglia rossa che trattiene quasi proprio cintura il giocatore in maglia bianca che è l'attaccante dell'Olimpia Diarrà questo è calcio di rigore tutta la vita giustamente concesso dal signor Zanotti di Rimini dagli 11 metri va Allegra che fissa il risultato sul 2 a 0 ventunesimo del secondo tempo c'è gloria anche per il giovane portiere Kuzmanovic che era entrato al posto di Mejeri perché vedete Energe che dal limite dell'area spara un gran sinistro sul quale interviene davvero con una bella parata il portiere Kuzmanovic che merita anche lui la prima pagina per aver comunque partecipato a questo successo straripante dell'Olimpia agnonese a Pineto siamo al 26esimo del primo tempo c'è una grande parata del portiere Caparro seguiamo il calcio di punizione battuto dal Pineto a centro area va a colpire di testa Tomassini vedete è bello il colpo di testa di Tomassini ma altrettanto bella è la parata di Caparro che con l'ausilio della traversa vedete arriva con la punta delle dita mette il pallone sulla traversa e quindi in calcio d'angolo 44esimo del primo tempo davvero un errore di Nigno incredibile perché lanciato in contropiede praticamente tutto solo davanti al portiere avversario ma invece di centrare la porta con un pallonetto vedete mette la palla abbondantemente al lato palla che esce addirittura di 4-5 metri alla sinistra della porta completamente sguarnita per fortuna Nigno si rifarà proprio all'ultimo minuto con il gol del pareggio allora Antonello Pascale l'ultimo direi l'ultimo contributo il pallonetto di Nigno direi croce e delizia perché poi è segnato l'1-1 eh beh io non posso giudicare perché dico così ho sbagliato parecchi quindi naturalmente è un errore abbastanza grave però ci sta il portiere era anche uscito bene tutto sommato quindi considerando anche l'uscita del portiere che si stava avvicinando molto al giocatore ha fatto più del dovuto secondo me quindi secondo te non è un gol mangiato? beh secondo me no un po' di sfortuna la Inzaghi la metteva a rasodella vabbè stiamo scomodando Inzaghi giocava in Serie A bravo hai detto la risposta giusta poi ha detto Antonello ma in che stadio andiamo dove si vedono le macchine parcheggiate eh ma io ti riferivi allo stadio Mariani Pavone di Pineto sì ma io anche quando ho visto la partita notarisco Campobasso massimo rispetto per il notarisco però quello che intendevo Campobasso è una piazza abituata a ben altri parcoscenici quindi è difficile a volte rispettare quelle che le aspettative del pubblico anche se la squadra la cosa bella che sto notando è che è un bel gruppo compatto che gioca in primis proprio per la città per la squadra cioè c'è un cuore diverso rispetto agli altri anni Qualcuno non lo sa ma Bontà gioca a mezzo servizio perché ha ricevuto un pestone qualche settimana fa al piede c'è stato qualche piccolo danno però io credo che anche con la stampella giocherebbe oggi qualche giocatore del Campobasso tanta è la voglia che stanno mettendo in campo gli allenamenti in sé per sé si trasformano proprio in due o tre ore di grande svago questo lo diciamo proprio come nota che vediamo anche dalle varie foto del sito ma anche relazionandoci con alcuni giocatori durante la settimana praticamente il Campobasso se in maniera surreale avrebbe potuto giocare anche oggi un'altra partita tanta è la voglia di correre da parte della squadra non so Erika se ti ha colpito qualcosa del primo blocco Moviola sì io vorrei mettere l'accento sulla grande parata di Kusmanovic dell'Olimpia Agnonese perché tante volte noi critichiamo i portieri perché magari fanno un sacco di farfalloni però questa volta in realtà c'è un grande elogio da fare a questo portiere è giusto ci associamo a questo elogio il Chieti non ha tirato tantissimo in porta però in quelle rare occasioni è stato bravo il portiere dell'Olimpia Agnonese facciamo una piccola sosta Erika ci fermiamo per pochissimi minuti restate con noi puntata numero 266 di Molise a calci siamo negli studi di Telemolise per commentare alcune partite relative al campionato di eccellenza ricordiamo che il campionato massimo regionale sosterà la prossima giornata per consentire la disputa della Coppa Italia tra Treppini e Acli Campodipietra ho detto Isernia perché pensavo alla sede neutra secondo Antonello chiediamolo prima ai nostri ospiti poi vedremo la carrellata di servizi siamo in vena di pronostici si avvicina questa finale ve lo possiamo vedere volendo anche classifica alla mano classifica del campionato di eccellenza anche se poi Antonello è una gara secca sì vabbè le finali sono sempre finali Acli Campodipietra però parliamo di una classifica in cui le squadre distano a due punti le motivazioni l'approccio alla partita penso faccia sempre la differenza nelle finali quindi è una tripla diciamo così quindi tu non ti sbilanci proprio perché si parte da un equilibrio abbastanza consolidato? penso di sì vabbè conosco qualcuno delle Acli Campodipietra quindi mi sbilancio per loro mi farebbe piacere per un fatto affettivo diciamo Nicolò beh la stessa cosa per me insomma ho alcuni amici che giocano con il campo di pietra con Acli Campodipietra quindi sicuramente faccio il tifo per loro però come diceva appunto anche lui si tratta di una finale quindi le finali sono tutte partite a sé non si possono fare dei bilanci preventivi insomma ma secondo te possono arrivare anche per esempio seconde si potrebbe completare una rimonta delle Acli Campodipietra che sono in una serie strabiliante da qualche giornata a questa parte vincono sempre beh sì considerando i loro risultati e poi anche il numero di golli che segnano e dei pochi pochissimi che ne prendono possono sicuramente avvicinarsi alla vetta del campionato io ovviamente glielo auguro con tutto il cuore e spero che comunque riescano loro anche perché si tratta della seconda squadra della città e quindi sarebbe sicuramente un piacere vederli militare in un campionato di una categoria superiore insomma allora vediamo facciamo un po' l'elenco Erika delle partite che abbiamo seguito e le relative interviste finali sì ascolteremo dei commenti su Rocca Sicura e Sernia Boiano Guglionesi infine Baranello Gambatesa allora cominciamo proprio in ordine di classifica sì una grande vittoria del Rocca Sicura 4 a 0 Pierpaolo Amodei ha sentito per noi Antonio Pecor l'allenatore del Rocca Sicura Ivan senatore giocatore dell'Isernia mister Pecoraro seconda vittoria della sua gestione forse l'unica insidia era legata magari alle condizioni del campo e all'inizio forse il direttore di gara era propenso a non giocarla no io direi che la prima insidia era l'Isernia perché comunque una squadra di tutto rispetto molto organizzata e infatti oggi ha dimostrato anche su questo campo di adattarsi un po' meglio di noi su questo tipo di terreno ma a parte questo ho visto la squadra organizzata quindi la prima insidia è stata l'Isernia poi è normale che il campo è brutto per tutte e due le squadre poi c'è stata anche la nebbia noi siamo felicissimi di questa vittoria proprio in virtù di queste difficoltà che abbiamo incontrato certamente la qualità a noi non manca però bisogna supportare alla qualità di gioco la qualità tecnica che ha un aspetto mentale importante se si vuole raggiungere determinati obiettivi noi stiamo lavorando proprio per questo per cercare di far crescere i giovani nella maniera giusta per proiettarli anche in campionati più importanti e far rendere questi giocatori un po' più esperti che hanno delle qualità tecniche e fisiche importanti tenerli sempre in una condizione eccellente beh abbiamo iniziato una buona mezz'ora abbiamo disputato peccato che comunque la nebbia e le condizioni climatiche ci hanno un po' reso difficile quindi giocare però dopo si è visto l'occasicura che comunque è una squadra molto forte noi siamo comunque una squadra buona che è giovane soprattutto loro chiaramente hanno avuto la meglio quindi ci rimbocchiamo le maniche quindi andiamo avanti sono le partite dove chiaramente hai più ansia con le score più forti e cerchi di dare il massimo fuori quindi piano piano si va avanti e cerca di andare bene tutte le partite durante il campionato e allora con Antonello uno sguardo anche al calcio a 5 questo sport che ha preso piede anche in Molise credo da qualche anno a questa parte ex Chaminade Antonello Pascale ora lo Sporting Campobasso primo in classifica a un punto dalla seconda ma ti chiedo proprio della Chaminade che cerca questa A2 disperatamente tra virgolette disperatamente ma sono due settimane che non se la sta passando troppo bene ha perso contro Stuni e il derby di Venafro con tre espulsioni insomma quindi con tante recriminazioni tanto rammarico sì io conosco molto bene l'ambiente di Chaminade naturalmente compreso chi gioca e chi sta nella società penso che negli ultimi tempi manchi un po' di serenità che poi è quella che magari ti aiuta anche a vincere delle partite complicate come è stato per esempio il derby col Venafro io il consiglio che posso dare alla società a volte è come se loro giocassero contro la squadra contro cinque avversari ma anche contro il sesto come se avesse un altro nemico a volte ma è così secondo te cioè effettivamente gli arbitri stanno remando contro involontariamente alla Chaminade un nemico a sé ti sono sincero la partita del Venafro non ho visto gli episodi dubbi naturalmente poi capitano degli errori come l'anno scorso quando hanno perso i playoff per un episodio veramente l'abbiamo dimostrato insomma che esatto sapete meglio di me di Sernia però non ha accordato ha accordato un gol oltre il fischio sì quello è stato un episodio palese però naturalmente io noto come questo li stia un po' come ti posso dire trascinando è un episodio che si trascina che a loro poi li condiziona in una maniera un po' negativa la classe arbitrale no no è proprio questa la classe arbitrale è come se loro partano già prevenuti nei confronti ho capito perfettamente infatti si vede che loro col Venafro sono un po' in escandescenza ok detto questo meno 6 dal Capurso pensa che due settimane fa due sabati fa la Chaminade era prima ma ovviamente era tutto molto corto in vetta tutto recuperabile questo meno 6 allora è un po' ad oggi è un po' difficile è un po' la situazione opposta del Campobasso in un girone come quello in cui è la Chaminade perdere punti è un po' più difficile rispetto al girone poi del Campobasso però ricordiamo lo dico per completezza di informazione che comunque la Chaminade fino al prima dello Stuni era in vetta poi con due sconfitte è andata sotto di 6 quindi questo significa che è cortissimo no in verità era più 3 dal Capurso ha perso lo scontro diretto se non erro a fine gire non è d'andata però è sempre rimasta prima sì è rimasto prima sì 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 adesso è terza a meno 6 dal Capurso perché poi c'è il Capurso poi mi sembra ci sia il Giovinazzo non dipende più da te quando non dipende più da te si innescano vari fattori per te è difficile però il tempo il tempo per la Chaminade c'è come no anche il Cusmo lì se l'anno scorso comunque poi dai playoff ha dimostrato che andare in Serie A2 non è solo arrivare ai primi ma poi il playoff è una strada in più naturalmente è un po' più difficoltosa però io penso che la Chaminade sia una squadra costruita per fare molto molto bene e il Cusmo Lise CLN Cusmo Lise in Serie A2 il Cusmo Lise in ogni categoria in cui si appresta a giocare è sempre una sorpresa perché è una società che si cala sempre nella competizione parte sempre per spacciate invece poi è una sorpresa continua in positivo in positivo sempre continuiamo con la carrellata di contributi del campionato di eccellenza su quale campo andiamo Erika? andiamo al Colalillo di Boiano dove il Boiano ha ottenuto un'altra sconfitta questa volta in casa contro un po' di dispiacere travelato contro il Guglionesi Stefano Saliola ha intervistato per noi Carmelo Gioffri l'allenatore del Boiano e Ciro Mennella l'allenatore del Guglionesi Mister Gioffri per il Boiano Nuova Domenica senza punti Guglionesi squadra più esperta di voi cosa è mancato per far risultato? è mancato che quelle tre occasioni che tu hai avuto era una partita molto difficile contro una squadra forte ben organizzata voglio fare complimenti a Ciro Mennella perché è una delle poche squadre che gioca veramente a calcio con organizzazione noi sapevamo che oggi non sarebbe stata una partita facile hai avuto tre occasioni non le hai sfruttate loro sono stati bravi sul primo gol mentre sul secondo siamo stati un po' polli perché abbiamo subito gol su un fallo su un fallo laterale diciamo che la differenza è stata è stata questa noi dobbiamo guardare avanti dobbiamo cercare di crescere in più in fretta possibile mister Mennella per il Guionesi tre punti importanti in ottica playoff a Boiano una partita comandata fin dall'inizio sì abbiamo temevamo questa partita perché affrontavamo una squadra anche seppur giovane comunque ben allenata ben organizzata che correvano tanto su un campo un campo difficile quindi siamo contenti perché abbiamo preso questi tre punti che comunque si portano si proiettano almeno mentalmente verso le zone alte della classifica al di là di quelli che possono essere i tre punti sono arrivati anche grazie ad una buona prestazione corale da parte della sua squadra sì sì i ragazzi hanno hanno fatto una prestazione eccellente dal punto di vista tecnico e tattico ma soprattutto dal punto di vista mentale perché comunque abbiamo affrontato la partita nel modo giusto rispettando l'avversario e quindi siamo riusciti a portare a casa questa vittoria meritata allora Nicolò Nicolò D'Amico laureano in giurisprudenza e giocatore per diletto dell'Oratino insomma noi conosciamo Oratino una colonia chiamiamola di amici della nostra redazione insomma ci si diverte in queste categorie magari si trovano campi un po' come quello di Boiano ieri siete stati a Volturino avete perso 5 a 3 abbiamo perso 5 a 3 io gioco a Oratino per una scelta perché credo che sia giusto preservare le piccole realtà molisane le piccole realtà come Oratino che sono appunto dei piccoli comuni che vanno sempre di più a spopolarsi e quindi è giusto mantenere queste realtà e anche se si milita in campionati diciamo di basso spessore è senz'altro buono per la comunità stessa quindi mantenere comunque una squadra all'interno del paese per me è un motivo di grande orgoglio anche essere stato accolto dall'interno dallo stesso paese e quindi con davvero tanto entusiasmo vado a giocare lì ogni giorno ecco tu parla di piccoli comuni come il tuo giusto? anche come il mio io vengo da Duronia un paese dell'Alto Molise della provincia di Campobasso molto paesaggistico credo sì senz'altro è un territorio montuoso che comunque è molto caratteristico e cosa si vede da Duronia? beh da Duronia in realtà si vede tutto l'Alto Molise perché è un paese che è situato a circa mille metri di altitudine quindi sicuramente il panorama io lo definisco davvero mozzafiato da alcune parti ma c'è la neve lì? attualmente no quindi quest'anno c'è anche le viste a Campitello quindi tu dici non l'ha fatta a Campitello e non la poteva fare nemmeno a Duronia Erika voleva intervenire oppure possiamo proseguire con la carrellata di servizi c'è la vittoria del Gambatesa a Baranello una bella partita dimmi tu il Gambatese ha portato a casa una vittoria sicuramente molto molto utile ai fini della classifica per noi c'era Luigi Di Lallo che ha intervistato Emanuele Di Chiro l'allenatore del Baranello e Giuseppe Tosches l'allenatore del Gambatesa Emanuele Di Chiro dunque è successo di tutto in questa partita bravi ad andare due volte in vantaggio poi al contrario siete riusciti a disfare tutto però insomma recriminate molto devo dire il calcio di ricordo secondo me è netto il primo tempo nel finale lo andremo a rivedere però veramente una partita strana ma vogliamo partire da questi episodi sì quello del primo tempo mi sembrava mi sembrava proprio netto nel secondo io ero molto vicino a Javasile lui ha preso posizione insomma ha aspettato il contatto si dà non si dà l'arbitro ha scelto di non darlo anche se diciamo non doveva compensare però però ci poteva ci poteva stare partita siamo stati bravi a sbloccarla poi abbiamo preso delle ripartenze incredibili non siamo riusciti a bloccarle a bloccarle neanche con un fallo dovevamo essere un po' più esperti ma di questo mi prendo io la responsabilità è che in mezzo al campo purtroppo paghiamo l'assenza di uomini di ruolo dopo l'infortunio di Borrelli insomma siamo andati in difficoltà anche con la squalifica di Antonello Niro la febbre di Lucio Cutillo insomma oggi non avevamo centrocampisti centrali ci siamo messi in campo per quelle che erano le nostre caratteristiche dovevamo insomma sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo avuto perché comunque abbiamo avuto qualcosa qualcosina per fare più male a gamba tesa non l'abbiamo sfruttata e purtroppo è una sconfitta che fa male benedico questa sosta in questo momento perché ribadisco ci siamo allenati poco in male durante le feste natalizie per svariati motivi oggi avevo tre under di cui Mattia Iannetta non si è allenato per niente questa settimana e forse si è visto che era un po' appannato a causa della febbre e ripeto questa sosta ci serve un po' per ricaricare le batterie Giuseppe Tosches allenatore del gamba tesa insomma grande vittoria sofferta possiamo dire che è successo di tutto in questa sfida con il Baranello grandissima vittoria soffertissima soffertissima perché il Baranello è stato in partita fino al novantasesimo quindi tre punti importantissimi che ci permettono di respirare prima della sosta e prima della gara casalinga contro la Liffe ecco voi siete in lotta per la salvezza diretta ci sono poi due discorsi il primo naturalmente uscire dalla zona playoff e poi anche il discorso dello sbarramento di dieci punti quindi potete competere in entrambi i fronti sì sì stiamo lavorando per questo per fare più punti possibili per uscire dalla zona calda poi se dovessimo lottare fino all'ultima giornata per i play out speriamo di tenere il più dieci che ci permette di evitare gli spareggi finali allora Antonello prima è scomodato il Milan addirittura perché a che proposito il mio Milan dicevi no vabbè parlo da tifoso ferito sei ancora ferito eh vabbè sì il Milan diciamo è come il campo basso nel senso si sta riprendendo però è abituato a ben altri palcoscenici diciamo così qual è il problema secondo te allora? ma il problema è sempre una mancanza di chiarezza negli obiettivi nella società perché poi penso sempre che si lavori bene quando c'è una scala gerarchica ben definita al Milan è un po' dei anni che non c'è ci sono ruoli sì che adesso come i grandi leggende Bovano e Maldini stanno cercando di riprendere in mano la situazione però secondo me ci vuole un po' di tempo per rivincere per rivincere qua per rivincere non lo so però per almeno competere almeno per le zone alte della classifica bisogna pedalare Nicolò con te che cosa scomodiamo? eh sicuramente la squadra più forte d'Italia che ieri sera ha perso giustamente a Napoli sì ieri sera ha perso giustamente in realtà bisogna fare complimenti a Napoli perché secondo me la partita l'ha preparata davvero bene poi ovviamente un eccesso di presunzione da parte della Juventus forse di sicurezza che l'ha portata quindi non a rendere al meglio sicuramente una delle peggiori partite stagionali però insomma siamo ancora più tre dalla seconda che ieri ha guadagnato un punto sì ha guadagnato un punto pareggiando contro il Cagliari l'Inter va bene allora abbiamo fatto questo Erika invece tifa per l'Inter ah quindi abbiamo praticamente Inter Milan e Juve qui a a Molise a calci io mi astengo facciamo una piccola pausa pubblicitaria Erika l'ultima sosta pubblicitaria tornate restate con noi perché tra poco vedremo altri interessanti contributi allora siamo eccoci dalla pubblicità rientrati dalla pubblicità puntata numero 266 di Molise a calci con Erika che ha preparato un top e flop curioso credo questa settimana non so se Antonello prevedi qualche top qualche flop in particolare eh no non ne hai proprio idee ah questa è la risposta di Antonello Nicolò secondo te prevedi qualche top o qualche flop di giornata non credo dai facciamo io faccio personalmente i migliori auguri al campo basso sperando che vada tutto per il meglio e poi anche per gli altri campionati manteniamo la stessa linea soprattutto in Serie A quindi gli ospiti non fanno previsioni Erika non ci vuole dire nulla e quindi no assolutamente dirò soltanto che il flop è molto simpatico anche se è un po' drammatico è simpatico ma drammatico e allora la curiosità sale con questo tipo di aggettivi vediamo la Moviola sì questa volta guardiamo il secondo blocco di Moviola sui campionati di eccellenza e promozione ma sempre a cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripalimosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brimido dolce di felicità a Rocca Sicura calcio di rigore per la squadra di casa c'è il cross di Lombardi torniamo un attimo dietro ecco il cross vedete il fallo proprio davanti alla porta a fianco a questo palo che ostruisce in parte anche la completa visione dell'azione però c'è un fallonetto di Calabrese su Diallo vedete il giocatore in maglia bianca che va nettamente sulle spalle del giocatore in maglia blu quindi questo è sicuramente calcio di rigore poi dagli 11 metri va a trasformare il secondo gol per il Rocca Sicura Lombardi Rocca Sicura che vincerà 4 a 0 a Boiano siamo al 31esimo del primo tempo c'è questo intervento intervento che l'arbitro ha praticamente punito con una con una munizione per simulazione arbitro signor Scarati di Termoli allora andiamo a ricostruire perché c'è il passaggio di Montuori poi c'è Abrunzo che praticamente svirgola il pallone a questo punto arriva Staffelli che vedete viene in qualche maniera ostacolato da Viselli giocatore con la maglia nero-verde però se andiamo ecco se ci fermiamo proprio andiamo avanti insieme al nostro regista ecco fermiamoci qui vedete Staffelli è già in volo proprio per andare a incrociare i piedi del giocatore avversario quindi a nostro avviso qui ha visto bene l'arbitro il signor Scarati di Termoli che va elogiato per questo per questa decisione perché vedete punisce poi il giocatore in maglia bianco-rossa con la simulazione perché ha visto proprio che si era tuffato per andare a cercare l'impatto sui piedi dell'avversario al 43esimo del secondo tempo lo stesso Scarati concede il calcio di rigore per questo intervento e c'è tutto il calcio di rigore perché era macciato che il giocatore in maglia bianco-rossa disinteressandosi del pallone vedete va a spingere il giocatore Mancino che è davanti a lui anche questo è sicuramente calcio di rigore giustamente concesso da Scarati poi dagli 11 metri va Montechiari vedete la decisione dell'arbitro il calcio di rigore Montechiari ma il portiere Manfredi del Boiano compie un bell'intervento Boiano che alla fine ha perso 2-0 a Baranello siamo al quarantesimo del primo tempo c'è questa trattenuta di esattamente Iannetta giocatore con la maglia celeste vedete sul giocatore avversario del Gambatesa si tratta di Bruno vedete Iannetta andiamo un attimo dietro e ricordate bene questo intervento perché poi lo stesso arbitro per un altro episodio ha deciso diversamente arbitro del signor Aurisano di Campobasso per noi questo è giusto questo calcio di rigore perché vedete il giocatore difendente che è quello in maglia celeste che si vede superato va in qualche modo a danneggiare la corsa del giocatore offendente in questo caso del Gambatesa per noi questo è calcio di rigore giustamente concesso dal signor Aurisano di Campobasso dagli 11 metri va Di Griscio che sigla il 2-3 lo stesso arbitro però che già nel primo tempo non aveva concesso un calcio di rigore clamoroso al Baranello come abbiamo dimostrato a Domenica Sport proprio allo scadere 43esimo vedete c'è la stessa azione di prima praticamente perché è lo stesso fallo perché però a parti invertite perché questa volta il giocatore in maglia nero-verde si tratta di Ruggero vedete che si vede scavalcato e va in qualche maniera a danneggiare la corsa del giocatore offendente si tratta di Iavasile ebbene l'arbitro questa volta ha deciso al contrario cioè se prima quell'intervento è stato punito giustamente con un calcio di rigore questo no anzi addirittura Aurisano ha ammonito Iavasile per simulazione che sicuramente non c'è davvero incredibile la decisione di Aurisano che pure prima lo abbiamo detto aveva deciso giustamente a Castelli Sangro protestano gli abruzzesi al terzo minuto del secondo tempo per questo fallo di mani di Ponzanesi difensore dell'Ururi diamo un attimo dietro perché qui la situazione è particolare ecco fermiamoci qui perché vedete è vero che Ponzanesi ha il braccio attaccato al corpo perché è indubitabile vedete si vede dalle immagini però se andiamo piano si vede che Ponzanesi da quasi una spallata ecco torniamo un attimo dietro vediamolo ecco a velocità quasi normale vedete da quasi una spallata vedete si muove in avanti col braccio per colpire il pallone che pure è attaccato al corpo qui ha deciso per il no l'arbitro il signor Pistolesi di Piombino perché ha scelto praticamente di privilegiare il fatto che il braccio fosse attaccato al corpo però il movimento a colpire il pallone da parte del difensore dell'Ururi c'è tutto quindi questo secondo noi poteva essere anche calcio di rigore al 46esimo del secondo tempo sul 2 a 0 calcio di rigore all'Ururi che c'è tutto perché vedete questo fallo di Rincione giocatore pelato ecco per riconoscerlo su Verlencia Verlencia entra in area vedete andiamo avanti qui poi viene tirato praticamente con il piede destro si sente tirato il piede destro dal piede destro del giocatore avversario viene colpito nettamente proprio sotto gli occhi dell'arbitro che concede il giusto calcio di rigore dagli 11 metri segna Ferrara che non impedisce però la sconfitta dell'Ururi 35esimo del primo tempo a Trivento protesta del Trivento per un intervento di Di Lallo su Di Blasio andiamo piano perché c'è calcio d'angolo l'arbitro il signor Matarrese di Termoli che è proprio davanti all'azione vedete che a un certo punto c'è il giocatore in maglia blu scura che frana completamente addosso al giocatore in maglia gialla qui per noi ci potevano essere gli estremi per un calcio di rigore che il signor Matarrese di Termoli non ha concesso come non ne ha concesso un altro altro evento che abbiamo visto e dimostrato durante Domenica Sport Allora con i nostri ospiti soffermiamoci su Baranello Gambatesa dove è successo davvero tantissimo a dirigere il signor Aurisano di Campobasso se è possibile lo recuperiamo questo confronto fra due episodi li dico a voce per ora Iannetta del eccoli qui Iannetta vedete l'azione del Gambatesa Iannetta su Bruno qui è stato assegnato il calcio di rigore al Gambatesa trasformato da Di Criscio del Gambatesa e successivamente un'azione analoga a fine partita eccola qui possiamo andare non è stato assegnato il calcio di rigore Ruggiero su Iavasile del Baranello che è stato ammonito per simulazione cerchiamo di ricostruire secondo voi cominciando da Antonello Pascale il confronto fra le due cose sarò impopolare però il primo mi sembra più netto il rigore dato al Gambatesa perché mi sembra Bruno era proprio in corsa quando sei in corsa poi basta che un tocco perdi l'equilibrio diciamo anche qui c'è un braccio di sì però mi sembra molto meno evidente del giocatore del Gambatesa forse si è lasciato un po' anche forse però qui stiamo parlando di una simulazione quindi non è che non è stato dato il calcio di rigore è stato ammonito per simulazione il problema è che se non del rigore in quel caso penso la simulazione no no ma non è detto che non si che si debba ammonire per simulazione allora tu hai detto che c'era il rigore per il Gambatesa e quindi quello sì quindi sei d'accordo il secondo c'è la simulazione o no? a questo punto sì a meno che non sia stato sparato se non è fallo è simulazione penso Nicolò D'Amico secondo me in tutti e due gli episodi l'attaccante si è un po' lasciato andare nel primo caso ci sono sicuramente gli estremi però per il calcio di rigore diversamente al secondo probabilmente il contatto non è stato così eccessivo tale da determinare quindi un rigore però se volevo capire se secondo voi c'era stato meno lo stesso metro da parte del direttore di gara nel giudicare le due situazioni tutto qua ecco perché le abbiamo solitamente analizziamo un episodio a partita c'è stato il confronto fra le due tutto questo il metro di giudizio dell'arbitro di Baranello Gambatesa però a me sembrano due interventi diversi sembrano simili però mi sembra abbastanza diverso senza nulla togliere che probabilmente il primo rigore è accentuato però chi gioca sa che poi sono situazioni in cui basta un tocco per dare il rigore ciò che non ho visto nel secondo intervento almeno dalla prospettiva che abbiamo noi qui della telecamera Nicolò vuoi aggiungere qualcosa? io sono perfettamente d'accordo sinceramente va bene Erika su Baranello Gambatesa due episodi? sì io credo che in realtà forse la simulazione è troppo non avrei attribuito la simulazione a Javasile ok quindi secondo te calcio di rigore o meno questo per il Baranello? in Baranello Gambatesa il secondo è il primo il secondo episodio per il Baranello forse non calcio di rigore ma nemmeno simulazione quindi tu avresti proprio sorvolato sì va bene finalmente direi innanzitutto siamo tutti e quattro nella stessa tv quindi brava la nostra regia bravo Angelo Pompei bravo Daniele Ricciuto e Erika sì finalmente possiamo guardare la rubrica di top e flop di questo weekend calcistico stop all'azione che porta al gol dell'1-0 del Guglionesi sul campo del Boiano dal tacco di Montechiari fino alla conclusione di Consolazio la partita terminerà poi 2-0 per gli ospiti flop a Marianeschi del Pineto che dimentica che gioca a calcio e si ispira a qualche pallavolista del vicino Abruzzo il giocatore salterà la gara di Selva Piana contro il Campobasso beh Antonello che dire ieri in Abruzzo hanno giocato un po' a pallavolo vedendo il flop scelto da Erika un po' troppo hanno avuto un attimo di blackout sia il giocatore del Pineto che quello della vastese Nicolò bel gol sei d'accordo con il top di Erika? beh sì un bellissimo gesto tecnico da apprezzare anche l'assist di tacco sicuramente una bella azione nel complesso poi ovviamente la conclusione da apprezzare era difficile per il portiere secondo me devo dire brava cioè sportiva Erika che ha dato il top a una squadra che ha vinto contro il suo Boiano ma insomma è stato davvero un gol di bella fattura questo del Guionesi mentre sul flop hai dovuto scegliere abbastanza Erika si erano prestate molte occasioni da flop però alla fine ho ritenuto che questa fosse la più emblematica la più emblematica Marianeschi evidentemente salterà campo basso Pineto di domenica prossima sembra quasi che abbia deciso di prendere non sembra ha deciso in quel momento di palleggiare forse ha visto che giocava col campo basso ha deciso di saltare Selvapiana va bene grazie Antonello Pascale grazie a voi dell'invito e un saluto a Francesca Francesca Trivisonno tua moglie che è stata per anni collaboratrice di Telemolisi grazie della nostra redazione sportiva grazie Antonello e grazie Nicolò D'Amico in bocca al lupo all'oratino e per sicuramente per la tua carriera di studente universitario so che hai un sogno nel cassetto si può dire oppure lo lasciamo nel cassetto beh no dai lasciamolo nel cassetto va bene perfetto rispettiamo queste cose grazie per essere grazie a voi ragazzi e grazie a Erika che è stato un piacere enorme ritrovarti qui a Molise a Calci ci vediamo per la prima del mese di febbraio visto che noi abbiamo queste scadenze temporali grazie anche a te Gianni ringrazio anche io i nostri ospiti ringrazio tutti i telespettatori che sono stati in nostra compagnia anche questa sera Molise a Calci torna lunedì prossimo la prima di febbraio sempre alle ore 21 quindi arrivederci e buon proseguimento di serata buona serata a tutti Molise a Calci in collaborazione con Design Stile e Comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Tregnina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sannio Consul Brokers SPA Piazza della Repubblica 14 Barra A Campobasso Broker di assicurazione Molise a Calci San Salvo